Ogni evento, e la giostra non fa eccezione, offre alcuni spunti di riflessione che è possibile ricavare dalla serata di sabato in Piazza Grande. Il primo riguarda Gian Maria Scortecci, il Cavaliere di Porta Santo Spirito, la cui carriera che a prima vista sembrava garantire il centro, è stata invece valutata soltanto due punti. Non sono mancate le polemiche che lo stesso giostratore ha subito spento con un post sui social, riconoscendo la correttezza dell'operato della giuria e confermando il giudizio espresso. Scortecci, che pure era diretto interessato, ha spiegato i motivi della decisione dei giudici, mostrandosi oltreché un ottimo giostratore, anche un Cavaliere leale. Il secondo motivo della serata è stata la bella prova di Saverio Montini, giostratore di Porta Sant'Andrea, decisivo con 2,5 nel portare la lancia d'oro in casa bianco-verde. Una prova sulla quale legge lo spirito vincente di Martino Gianni, che ha dato ancora una dimostrazione, stavolta da preparatore, della sua capacità innata di vincere. Infine, la bella prova di Porta del Foro, il quartiere Giallo Cremisi, dopo anni non facili, sembra tornare su livelli competitivi, e questo grazie anche ai giovani giostratori, che stanno acquisendo sempre maggiore esperienza. Insomma, una serata ricca di emozioni e tutta nel segno della retinità. Grazie. Grazie.